Un colpo di Stato Parigi aveva conosciuto da poco la notizia del disastro di Sedan. La Repubblica era stata proclamata. Tutta la Francia, senza fiato, era all'inizio di quella pazzia generale che durò sin dopo la comune. Tutti giocavano a fare i soldati da un capo all'altro del paese. Alcuni capellai erano già colonnelli facenti funzione di generali. Rivolte alle pugnali erano stentati su grossi ventri pacifici avvolti di rosse cinture. Piccoli borghesi, diventati guerrieri per l'occasione, comandavano battaglioni di volontari chiacchieroni e sacramentavano come carrettieri per darsi un contegno marziale. Il solo fatto di avere delle armi, di maneggiare un fucile a ripetizione, eccitava queste persone, che sino ad allora non avevano maneggiato altro che le bilance, e li rendevano senza alcuna ragione furibondi contro il primo venuto. Per provare che sapevano ammazzare, mettevano a morte gente innocente. Fucilavano, gironzolando per le campagne, dove ancora non avevano messo piede i prussiani, i cani randagi, le vacche che luminavano in pace, i cavalli malati al pascolo nei prati. Ognuno si credeva destinato a un grande destino militare. I caffè dei più sperduti villaggi, pieni di commercianti in alta uniforme, rassomigliavano a delle caserme o a delle ambulanze. Il borgo di Canerville ignorava ancora le spaventose notizie dell'esercito e della capitale, ma un'estrema agitazione lo metteva sossopra da un mese, poiché i partiti contrari si trovavano faccia a faccia. Il sindaco, il visconte di Vernetò, un ometto magro, già vecchio, legittimista, riunitosi da poco all'impero per ambizione, aveva visto sorgere un concorrente avverso nel dottor Massarel, un uomo grasso, sanguigno, capo del partito repubblicano nel circondario, venerabile della loggia massonica del capoluogo di provincia, presidente della società di agricoltura e del banchetto dei pompieri, organizzatore della milizia rurale, che avrebbe dovuto essere la salvezza di tutta la contrada. In 15 giorni aveva trovato modo di convincere a difendere il paese 63 volontari, tutti con mogli e figli, contadini prudenti e negozianti del paese, e dirigeva le loro esercitazioni ogni mattina sulla piazza, davanti al municipio. E se per combinazione il sindaco andava al palazzo comunale, il comandante Massarel, bardato di pistole, passava fieramente con la sciabola in pugno, davanti alla truppa schierata, che urlava allora, «Viva la patria!» E questo grido, tutti ci avevano fatto caso, sconvolgeva il piccolo Visconte, che ci vedeva senza dubbio una minazza, una sfida, e ancora nello stesso tempo un ricordo abborrito della grande rivoluzione. La mattina del 5 settembre, il dottore in grande uniforme, la rivoltella poggiata sul tavolo, visitava una coppia di vecchi contadini, una dei quali, il marito, malato di varici da sette anni, aveva aspettato che sua moglie si ammalasse anche lei per venire a trovare il dottore. Quando il postino portò il giornale, il signor Massarel l'aprì, impallidì, si alzò bruscamente e alzando le braccia al cielo in un gesto d'esaltazione, si mise a urlare con tutta la potenza della voce davanti ai due campagnoli sbigottiti, «Viva la Repubblica! Viva la Repubblica!» Poi ricadde nella poltrona, venendo meno per l'emozione, e poiché il contadino li attaccava, ha cominciato con delle formiche che correvano su e giù per le gambe. Il dottore gridò, «Lasciatemi in pace! Non ho tempo d'occuparmi delle vostre sciocchezze! Hanno proclamato la Repubblica! L'imperatore è prigioniero! La Francia è salva! Viva la Repubblica!» E corse alla porta, mughiò, «Celeste! Presto! Celeste!» La domestica arrivò tutta spaventata. Il dottore tartagliava, da quanto parlava in fretta. «I stivali! La sciabola! La cartuccera! Il pugnale spagnolo! Che è nel comodino! Spizzati!» Intanto il contadino, testardo, approfittando d'un momento di silenzio, continuava, «E poi mi sono venute come pieghette che mi facevano male quando camminavo!» Il dottore esasperato proruppe, «Lasciatemi in pace! Per la miseria! Se vi foste levato dai piedi, non vi sarebbe successo niente!» Poi, afferrandolo per il colletto, «Pezzo d'asino! Hai sentito che abbiamo fatto la Repubblica?» Il sentimento professionale lo calmò subito e sospinse dolcemente fuori di casa la coppia stordita, ripetendo, «Tornate domani! Tornate domani, amici miei! Oggi non ho tempo!» Si equipaggiò dalla testa ai piedi e dette di nuovo una serie di ordini urgenti alla donna di servizio. «Corri dal tenente Picare e dal sottotenente Pommel e dì che li aspetto qui immediatamente! Mandami anche Torcebeff col tamburo! Presto! Presto!» e quando Celeste fu uscita si raccolse preparandosi a superare le difficoltà della situazione. I tre uomini arrivarono insieme vestiti da lavoro. Il comandante, che si aspettava di vederli in alta uniforme, sussultò, «Ma non sapete niente, dunque, per la miseria! L'imperatore è prigioniero! Hanno proclamato la Repubblica! Dobbiamo agire! La mia posizione è delicata! Dirai, pericolosa!» Riflettè per qualche istante davanti ai visi sbalorditi dei suoi subalterni. Poi riprese, «Bisogna agire, senza esitazioni! Infrangenti simili, i minuti valgono come ore! Tutto dipende dalla prontezza delle decisioni!» «Voi, Picard, andate dal curato e intimategli di suonare le campane a martello per riunire la popolazione che io stesso avviserò!» «Voi, Torcebeff, suonate la donata in tutto il comune, sino ai casali di Zeresali e Salamar, per far radunare sulla piazza le milizie in armi! E voi, Pommel, rimettetevi subito l'uniforme, almeno la giubba e il che pì! Andremo ad occupare insieme il palazzo comunale e costringeremo il signor Varnetot a cedermi il potere! Bastano la giacca e il che pì! Capito bene? Sì! Fate quel che v'ho detto! È presto! Io vengo con voi, Pommel, dato che agiremo insieme!» Cinque minuti dopo, il comandante e il suo ufficiale, armati sino ai denti, apparivano in piazza, proprio quando il piccolo visconte di Varnetot, inghette come per una partita di caccia, col suole fouchou sulla spalla, sbucava passettini rapidissimi da un'altra strada, seguito dalle sue tre guardie in tunica verde, armate da un pugnale al fianco ed un fucile a tracolla. Mentre il dottore si fermava, stupefatto, i quattro entrarono nel palazzo comunale chiudendosi dietro il portone. «Ci hanno preceduti!» morborò il dottore. «Bisogna aspettare i rinforzi!» «Niente da fare per un quarto d'ora!» comparve di nuovo il tenente Picà. «Il curato non vuole obbedire! Si è chiuso persino in chiesa con lo scaccino e il custode!» E dall'altro lato della piazza, di faccia al municipio bianco e chiuso, la chiesa, muta e nera, mostrava una gran porta di querza rinforzata da solide serrature. Allora i contadini incuriositi misero il naso alle finestre o uscirono sull'uscio di casa. Il tamburo rullò all'improvviso e apparve Torcebef battendo furibondo i tre colpi precipitosi dell'adunata. Traversò la piazza a passo ginnico e scomparì sulla strada dei campi. Il comandante strasse la sciabola, avanzò solo ad una mezza distanza tra i due edifici in cui si erano barricati i nemici e agitando l'arma sopra il capo muggì con tutta la forza dei polmoni. Viva la Repubblica! Morte ai traditori! Poi si ritirò verso i suoi ufficiali. Il beccaio, il fornaio e il farmacista, inquieti, accostarono le persiane e chiusero bottega. Solo il pizzicagnolo rimase aperto. Intanto erano arrivati alla spicciolata gli uomini della milizia, vestiti ognuno in un modo diverso e tutti con un kepì nero dai galloni rossi in testa. Il kepì era l'unica uniforme del corpo. Erano armati dei loro vecchi fucili arrugginiti. Quei vecchi fucili appesi da trent'anni sui camini delle cucine rassomigliavano tutto sommato a un plotone di guardie campestri. Quando una trentina di soldati fu raccolta intorno al comandante, questi li mise il corrente degli avvenimenti con poche parole. Poi, dirigendosi al suo stato maggiore, disse «E ora all'azione!» I paesani si radunavano, osservavano e discutevano. Il dottore decise presto il suo piano di guerra. «Tenente Picard, avanzate fin sotto le finestre della casa del sindaco e intimate al signor in nome della Repubblica di consegnarmi il palazzo comunale!» Il tenente, che faceva il capomastro, rifiutò «Quanto siete furbo, voi, per prendermi una fucilata! Grazie tante! Tirano bene quelli che si sono chiusi là dentro, lo sapete! Fatela voi, la commissione!» Il comandante diventò rosso. «Vi ordino d'andarci in nome della disciplina!» Il tenente si ribellò «Non ci vado, non voglio rimetterci la pelle senza motivo!» I notabili, riuniti in un gruppo lì vicino, si misero a ridere. Uno di loro strillò «Ha ragione Picard, non è il momento adatto!» Allora il dottore sussurrò «Vili!» e depose la sciabola e la rivoltella nelle mani di un soldato, tenendo gli occhi fissi sulle finestre e aspettandosi di vedere uscire un fucile puntato contro di lui. Quando fu a pochi passi dall'edificio, le porte laterali che erano gli ingressi delle scuole si aprirono. I maschi da una parte, le bambine dall'altra uscirono di gran corsa e si misero a giocare nella grande piazza vuota, ridendo come un branco di occhi attorno al dottore che non riusciva a farsi sentire. Non appena gli ultimi alunni furono usciti, le porte si rinchiusero. Infine il grosso dei ragazzi si disperse, il comandante poté chiamare con voce tonante «Signor de Varnetot!» Si aprì una finestra del primo piano e apparve il signor Varnetot. Il comandante riprese a parlare. «Signore, voi conoscete i grandi avvenimenti che hanno orora cambiato il volto del governo. Quel che rappresentavate non è più. Quel che rappresento io sale ora al potere. In simili circostanze, dolorose ma decisive, vi chiedo in nome della Repubblica di cedermi il comando di cui eravate stato investito.» Il signor de Varnetot rispose «Signor dottore, io sono sindaco di Canneville nominato dalle autorità competenti e resterò sindaco di Canneville finché non sarò stato revocato e rimpiazzato dai miei superiori. Come sindaco sono in casa mia nel palazzo comunale e ci resto. «O provate a farmene uscire!» E richiuse la finestra. Il comandante tornò verso la sua truppa ma prima di parlare disse squadrando dall'alto in basso il tenente Picard «Siete un fifone voi! Coniglio! Coniglio! Vergogna dell'armata! Vi degrado!» Il tenente rispose «Non me ne frega niente» e si confuse col gruppo dei cittadini che mormoravano. Allora il medico esitò «Che fare? Dare l'assalto? Ma i suoi uomini sarebbero venuti avanti?» E poi ne aveva il diritto? Un'idea l'illuminò. Corse al telegrafo che era di fronte al palazzo comunale dall'altro lato della piazza e spedì tre messaggi ai signori membri del governo repubblicano Parigi al signor nuovo prefetto repubblicano della Senna inferiore Ruan al signor nuovo vice prefetto repubblicano Dieppe esponeva la situazione diceva del pericolo corso dal comune rimasto in mano al vecchio sindaco monarchico offriva i suoi devoti servizi domandava ordini e firmava facendo seguire il nome da tutti i suoi titoli poi tornò verso il suo corpo d'armata e tirando fuori di tasca una decina di franchi tenete amici andate a mangiare e a bere un po' lasciate qui solo un distaccamento di dieci uomini perché nessuno esca dal municipio ma l'extenente Picard che stava chiacchierando con l'orologaio intese e si mise a canzonare perbacco se esco non sarà un'occasione per entrare altrimenti non credo che riuscirete ad entrare il dottore non rispose e andò a colazione nel pomeriggio dispose un servizio di vigilanza intorno al municipio come se fosse minacciato da un attacco di sorpresa passò parecchie volte davanti alle porte del palazzo comunale e della chiesa senza notare nulla di sospetto i due fabbricati parevano vuoti il macellaio il fornaio e il farmacista riaprirono i negozi nelle case chiacchieravano come cicale se l'imperatore era stato fatto prigioniero doveva esserci qualche tradimento là sotto non si sapeva nemmeno che razza di repubblica fosse tornata calde la sera verso le nove il dottore si avvicinò solo solo senza far rumore all'ingresso dell'edificio comunale persuaso che il suo avversario se ne fosse andato a dormire ma mentre si disponeva ad abbattere a furia di colpi di zappa la porta una voce forte certo quella di una guardia domandò all'improvviso chi va là e il signor Massarel batte in ritirata a gambe levate il giorno spuntò senza che la situazione mutasse di nulla la milizia armata occupava la piazza tutti gli abitanti si erano riuniti attorno a questo gruppo aspettando una soluzione arrivarono per veder lo spettacolo anche quelli dei paesi vicini allora Massarel comprendendo che si giocava la reputazione risolvette di farla finita in un modo o nell'altro e stava per prendere una decisione qualunque ma certo energica assai quando si aprì la porta del telegrafo e comparve la servetta della direttrice tenendo in mano due fogli si diresse subito verso il comandante e gli consegnò uno dei dispacci poi attraversando il centro deserto della piazza intimidita da tanti sguardi fissi sopra di lei abbassando il capo e trotterellando svelta svelta andò a bussare pian piano al palazzo barricato come se ignorasse che vi si nascondeva una fazione in armi l'uscio si schiuse appena una mano d'uomo ricevette il messaggio e la ragazza se ne tornò indietro tutta rossa e vicina a scoppiare in pianto per essere stata squadrata così da tutto il paese il dottore chiese con voce vibrante un po' di silenzio per favore e quando il popolino tacque riprese con fierezza ecco la comunicazione che ho ricevuto dal governo e tenendo ben alto il telegramma l'esse vecchio sindaco revocato comunicate immediatamente provvedimento riceverete ulteriori istruzioni per il vice prefetto il consigliere Sapin trionfava un cuore gli batteva di gioia le mani tremavano tuttavia Picard il suo ex subalterno gli gridò da un gruppetto vicino va bene va bene ma se gli altri non escono che ve ne fate del telegramma il signor Massarel impallidì se gli altri non fossero usciti bisognava davvero fare un'avanzata era non solo un suo diritto ma un suo dovere e guardava con ansia il palazzo comunale con la speranza di vedere aprire la porta e fuggire il nemico la porta rimaneva chiusa che fare la folla aumentava si urtava attorno ai militi ridevano un pensiero soprattutto tormentava il medico che avesse dato l'ordine dell'assalto avrebbe dovuto camminare alla testa delle sue truppe e poiché con la sua morte sarebbe terminato ogni dissidio era certo su lui su lui solo che avrebbero mirato il signor Varnetò e le tre guardie e miravano bene assai bene Picardio lo aveva ripetuto poco prima tuttavia ebbe un'idea luminosa e rivoltosi a Pommel disse presto pregate il farmacista di prestarmi una salvietta e un bastone il tenente si precipitò stava preparando dunque una bandiera per parlamentare una bandiera bianca la cui vista avrebbe forse rallegrato il cuore legittimista del vecchio sindaco Pommel tornò con la bandiera richiesta e un manico di granata con uno spago fissarono lo stendardo che Massarel prese con ambedue le mani e s'avanzò un'altra volta verso il municipio tenendolo davanti a sé quando fu di fronte alla porta chiamò ancora signor de Varnetò la porta si aprì subito e signor de Varnetò apparve sulla soglia con le tre guardie per un moto istintivo il dottore fece un passo indietro poi salutò con cortesia il nemico e disse con voce strangolata dall'emozione vengo a comunicarvi signore le istruzioni ricevute il gentil uomo rispose senza rendergli il saluto io mi ritiro signore ma sappiate bene che non è per timore né per obbedienza all'odioso governo che usurpa il potere e calcando la voce su tutte le sillabe dicherò non voglio aver l'aria di servire la repubblica neanche un sol giorno ecco tutto masserel interdetto non rispose niente e il signor de Varnetò messosi rapidamente in cammino farì all'angolo della piazza sempre seguito dalla scorta allora il dottore folle d'orgoglio tornò presso la folla quando fu abbastanza vicino da farsi ascoltare urlò urrà 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 viva la repubblica la repubblica trionfa su tutta la linea nessuna emozione turbò la folla il dottore ricominciò il popolo è libero siete liberi indipendente siatene fieri i contadini inerti stavano a guardarlo senza che nessuna luce di gloria illuminasse i loro sguardi a sua volta egli li contemplò indignato di quella indifferenza cercando quel che avrebbe potuto dire quel che avrebbe potuto fare per far colpo elettrizzare la placida popolazione concludere la propria missione di innovatore una ispirazione lo salvò e disse a Pommel perente andate a cercare il busto dell'ex imperatore che è nella sala delle deliberazioni del consiglio municipale e portatemelo qui con una seggiola e ben presto l'uomo ricomparve portando sulla spalla destra il buonaparte di gesso e una seggiola impagliata nella mano sinistra Massarel venne davanti a lui prese la sedia la posò a terra l'installò sopra il busto poi ritrattosi di qualche passo l'insultò con una voce squillante tiranno tiranno ecco sei caduto nel fango nel fango la patria morente rantolava sotto il tuo stivale ti ha colpito il destino vendicatore la disfatta e l'ignominia ti stanno addosso tu cadi vinto prigioniero dei prussiani e sulle rovine del tuo impero cadente la giovane radiosa repubblica serge raccogliendo la spada tua infranta aspettava gli applausi ma nessuno inneggiò ne applaudì i contadini tacevano sconcertati e il busto dai mustacchi a punta che sorpassavano da tutte e due le parti le guance il busto immobile ben pettinato come l'insegna ad un barbiere sembrava guardare Massarel col suo sorriso di gesso un ineffabile sorriso canzonatore restavano così l'uno di fronte all'altro Napoleone terzo sulla seggiole il dottore in piedi a tre passi da lui una collera subitanea invasa il comandante ma che poteva fare che fare per smuovere quel popolino e vincere definitivamente quell'opinione pubblica per caso la sua mano si poggiò sul ventre e incontrò sotto la fascia rossa il calcio della rivoltella non aveva più idee né ispirazioni di sorta allora estrasse l'arma fece due passi e fulminò a bruciapelo l'ex monarca da pallotto la scavò nella fronte un buchetto nero simile a una macchia quasi niente l'effetto era mancato ma sarei sparò un altro colpo che fece un secondo buco poi un terzo poi senza fermarsi gli ultimi tre la fronte di Napoleone era ridotta in polvere bianca ma gli occhi il naso e le punte sottili dei baffi rimanevano intatti allora il dottore esasperato rovesciò con un pugno la sedia e poggiando un piede sui resti del busto in posizione da trionfatore si rivoltò al pubblico sbalordito vociferando muoiono così i traditori poiché non si manifestava ancora nessun entusiasmo e gli spettatori sembravano intontiti dallo stupore il comandante gridò alla milizia potete tornare a casa ora e si diresse anche egli verso casa a gran passi come in fuga la serva non appena lo vide gli disse che certi ammalati l'aspettavano da oltre tre ore nel gabinetto di consultazione vi corse erano i due contadini dalle varici tornati all'alba ostinati e pazienti e il vecchio ricominciò subito la spiegazione ha cominciato con delle formiche che mi correvano su e giù lungo le gambe